Si rinnovano anche le previsioni meteo, vediamo cosa ci attende. Queste le previsioni meteo per domani, venerdì 3 novembre di notte e dal mattino il cielo si presenterà velato su gran parte della regione. Nel corso delle ore pomeridiane è atteso un graduale incremento della copertura nuvolosa sui settori occidentali. In tale contesto, precipitazioni di debole o moderata intensità interesseranno Trapanese e Palermitano occidentale. Tali fenomeni tenderanno ad intensificarsi nel corso delle tarde ore serali. Le temperature saranno pressoché stazionarie. Venti, prevalentemente moderati, dei quadranti occidentali. Saranno possibili locali raffiche fino a Burrasca sulle coste di Trapanese e Palermitano e sul versante occidentale etneo. Mari, Mossolo e Ionio, molto mossi o agitati gli altri bacini. Queste previsioni sono fornite grazie alla collaborazione con il Centro Meteorologico Siciliano. Sigle a cura di AP Web Radio e in Social TV. Grazie a tutti. Grazie a tutti.